Il presidente della regione, nonché senatore eletto il 4 marzo scorso Luciano D'Alfonso, ha scelto il quotidiano La Repubblica per annunciare che oppetterà per Palazzo Madama e si dimetterà dalla carica di governatore. D'Alfonso ha anche stigmatizzato i presunti tentativi da lui messi in campo di non dimettersi subito per far slittare le elezioni regionali alla prossima primavera. Nei primi due mesi il Senato non ha fatto nulla e c'era il fondato sospetto di un ritorno anticipato alle urne, ha dichiarato il governatore. E poi ha aggiunto «Ho sempre sostenuto che avrei deciso dopo la convalide della mia elezione al Senato». Il 7 settembre, a concluso D'Alfonso, farà una grande iniziativa pubblica per spiegare agli abruzzesi quanto di buono ho prodotto nel corso della mia legislatura. In realtà però il governatore è stato costretto a dimettersi dalla decisione assunta dalla Giunta per le elezioni del Senato la quale si è riunita nei giorni scorsi e gli ha notificato a mezzo raccomandata la sua incompatibilità dandogli tre giorni di tempo per scegliere o il posto al Senato o restare Presidente della Regione. A questo punto, se le dichiarazioni di D'Alfonso sono veritiere, le elezioni regionali si svolgeranno in autunno, tra novembre o al massimo i primi giorni di dicembre. Ovviamente con le dimissioni del Presidente De Cade, l'intero Consiglio regionale e tutte le proposte di legge in itinere, tra le quali la modifica della legge elettorale per reintrodurre il voto di giunto e la surroga degli assessori, quest'ultima chiesta anche da Forza Italia che però nega con il suo capogruppo Lorenzo Sospiri, ogni inciucio con la maggioranza non potranno più essere approvate, a meno di un ripensamento del Presidente sulle sue dimissioni. Considerato l'ostruzionismo fin qui attuato da D'Alfonso per fare slittare il voto a marzo, tutto è possibile, staremo a vedere.